Amici di Telemantova, buon pomeriggio da Giulio Giovannoni e Gianpaolo Grossi. Venezia-Mantova si torna a giocare un tra virgolette super classico di Lega Pro, un po' diviso tra tante società, prima Venezia, poi Mestre, poi Venezia-Mestre insieme, poi Venezia ancora, insomma, tante sfide si sono consumate in questo stadio e anche in quello di Mestre negli anni 80 e 90 e oggi Mantova e Venezia si ritrovano uno davanti all'altro. Venezia che ha dovuto sopportare tre anni di Serie D prima di ritornare in Lega Pro e ha avuto la sua escalation poi a cavallo degli anni 2000, ha conquistato addirittura la massima serie. Mantova ci è arrivato dopo, non in Serie A purtroppo, ma in Serie B, lo sapete tutti, lo ricorderete tutti. Oggi, tabellone del recupero, poi ancora calcio d'angolo in favore del Venezia, 0-0 il risultato tra Venezia e Mantova. Vediamo il calcio dalla Mandellina, il colpo di testa è quello di Mattielighe, poi la palla che danza verso il limite, prova a venirne fuori Del Sante, Del Sante però steso, ci sta stavolta il cartellino, sacro santo. Attenzione però, il cartellino è per Del Sante, pazzesco. Pazzesco, probabilmente per simulazione, se l'abbiamo visto male, rosso per Del Sante. Adesso però deve stare calmo, Stefano Del Sante deve evitare di dire quel che pensa al direttore di gara Reni, la decisione purtroppo, giusto o sbagliata che sia, è stata presa dal direttore di gara, anch'io ho avuto la sensazione ed il primo a stupirsi di questa decisione è stato proprio il giocatore del Venezia, anche questo è un episodio che rivedremo poi alla Moviola. Purtroppo lascia il Mantova in dieci per tutta la ripresa e per questo recupero del primo tempo che ora vediamo vicino all'ingresso delle squadre in campo sarà esibito quello che è la sostanza del recupero. Ora vedremo anche se nell'intervallo Frutti cercherà di porre rimedio a questa situazione. è stata espulsa la punta centrale dei biancorossi quindi non necessariamente richiede un cambio però è una decisione controversa che appunto, ripeto, rimandiamo alla Moviola ma che mi pare il direttore di gara Reni avesse, come si suol dire, nella manica nel senso che erano già un paio di occasioni che con Del Sante si era instaurato un certo rapporto un po' di ruggine, possiamo dire così Giulio. Sì, hai detto perfettamente, anche quando prima c'è stata la protesta su un fuorigioco c'era già il guardaline che aveva intenzione di segnalare un eventuale cartellino giallo l'arbitro ha detto di no però forse si era promesso a se stesso di dire alla prossima lo caccio via e è bastato poi un pretesto abbastanza ridicolo insomma, una simulazione, è dubbio una simulazione praticamente dalla propria area può valere un cartellino rosso insomma è stata una decisione abbastanza pesante per il Mantua ma che ripeto dal 46esimo del primo tempo dovrà giocare in dieci uomini, l'arbitro segnale un solo minuto di recupero a rinvio di Marco Festa dopo che l'arbitro fischiato una punizione la palla arriva Pietribiasi che vince un contrasto, mantiene in possesso del pallone, la apre verso Spinale che poi ancora per Bertin, prova una sorta di tiro grosso del gol del Mantua! il gol del Mantua! attenzione però che... attenzione sì però l'azione continua, non l'abbiamo capito ma quello che non riusciamo a capire è che l'azione del Venezia sta continuando, l'arbitro ancora lì che parla con Spinale era fuori gioco, andremo a vedere ma non ho capito particolarmente quello che è successo sì, gol annullato, peccato perché era una bella azione in contropiede peccato anche per il giallo Mattielic attenzione però, rimettiamo posto tutto Gian Paolo, te che hai visto bene bellissima l'azione in velocità dei biancorossi la rasoiata perfetta di Mattielic sotto la traversa prima il dubbio che il pallone fosse entrato, poi quando il pallone è entrato Mattielic l'abbiamo visto andare ad esultare, in realtà non stava andando ad esultare ma stava andando a prendersela con il guardaline che nel frattempo aveva segnalato il fuorigioco fuorigioco che anche questo verificheremo domani sera a piazza pallone però non possiamo farci nulla, certo sarebbe stato un bel colpo quello di un Mantua in dieci in vantaggio qui al Penzo di Venezia in una partita piuttosto soporifera ma che il Mantua vive con grande attenzione cercando di limitare i danni provate a pensare a quello che sarebbe stato un gol per i biancorossi dieci contro undici Mattielic in realtà poi non è stato ammonito ma solo redarguito dopo il conciliabolo tra il direttore di gara Reni e Loni perché in precedenza Mattielic era stato ammonito al diciannovesimo del primo tempo quindi il Mantua sarebbe rimasto in nove se ci fosse stato anche il cartellino ai danni di Mattielic perfetto esame di Giampaolo Grossi io avevo visto invece tante cose attenzione con il Venezia ora che attacca pericolosamente la palla per Pietri Biasi il Mantua può ripartire Pietri Biasi ancora il dribbling se ne va il biancorosso ancora il Pietri Biasi la palla aperta nella zona di spinale palla al piede il capitano si ferma un attimo poi alla fine prova questo cross la palla che rimbalza sulla testa di un giocatore del Venezia ovviamente ci ha pensato due volte il Mantua va a seguire quest'azione visto che poi ha avuto così il terrore di un'eventuale ripartenza del Venezia altro fallo commesso dal Mantua ora il Venezia che guadagna una rimessa in gioco con le mani Delia va a posizionarsi in tutta la difesa del Mantua che deve stringere i denti in questa fase finale del match Venezia prova in avanti con Cabeccia attenzione pallone dentro va a finire esce festa attenzione calcio di rigore in favore del Venezia non ho parole non ho parole non ho parole però per come ha corso l'arbitro ma beh senza parole anche Gianpaolo sto cercando di ricostruire quanto accaduto mi è parso che ci sia però un intervento di Girelli ai danni di Marconi peccato perché manca un solo giro di lancetta al fischio finale non lo so comunque un calcio di rigore non corrisponde necessariamente ad un gol non possiamo avere fiducia in Marco Festa che può magari riscattarsi visto che è stato considerato un bersaglio da parte dei tifosi per lungo tempo Franchini contro Festa dobbiamo mettere in conto una possibile clamorosa sconfitta vediamo se c'è il miracolo ma pazzesco pazzesco vince l'ascolto di Telemantova tiro gol Venezia vince la partita in maniera assurda e vabbè vuol dire che doveva finire così non so cosa è successo in area il Mantua non meritava questa sconfitta per nessun motivo l'arbitro poi in maniera anche un po' ridicola dice recuperiamo un minuto sai che cosa ce ne facciamo di questo minuto insomma un'espulsione fantasma un gol fantasma del Mantua un rigore così una partita da 0-0 grande come una casa insomma se il Mantua non conta più niente Venezia conta qualcosa perché c'è qualche russo che ci ha investito fate voi non lo so a me viene da innervosirmi perché non si può contestare certe volte il Mantua per le sue prestazioni quando poi oggi invece ha giocato bene e anche quando gioca correttamente in difesa cercando di non rischiare nulla è andato a perdere ugualmente queste sono delle palate sui denti si può dire per una squadra che in tutti i modi possibili aveva cercato di mantenere il risultato c'è un fallo ora i danni di Bersi ringraziamo il direttore di gara questo pessimo signore Reni di Pistoia cervellotico un po' personalista ce l'aveva col del sante l'ha buttato fuori era lì che guardava vabbè comunque attenzione colpo di testa la palla lì pallone ma è finita credo è infatti così Venezia vince una partita scandalosa buon per loro che andranno avanti non so fino a che punto giocando in questo modo il Mantove invece deve raccogliere una sconfitta che non ci stava assolutamente veramente complimenti al direttore di gara che ha rovinato una partita da 0-0 in una maniera decisamente scandalosa è tutto da Giampaolo Grossi da Giulio Giovanoni grazie